Sono contento di presentare i nuovi acquisti, uno ex nuovo, Luca Nizzetto, che ho avuto la fortuna di riportare qui perché Verona si è avvicinato un po' a Trapani, la geografia si è ristretta. Luca ha fatto di tutto per poter tornare da noi e noi l'abbiamo accolto a copraccia aperta, non nascondendo che quando ero andato via io per primo ce l'ho rimasto male perché avevo fatto un sacrificio a livello economico, io società sempre, però ho capito pure che il ragazzo giustamente si voleva avvicinare a casa, aveva fatto una scelta diversa di vita e non era una questione di altre situazioni. Agostino sarà il nuovo difensore del Trapani per questi sei mesi, poi si vedrà venuto con prestito e con diritto di riscatto, anche con cifre esorbitanti, per cui è più una cosa tecnica perché sappiate che se un 94-95 viene in prestito secco ci rientra nella lista dei 18 e noi non avevamo posto. Poi qui c'è Caglio De Cinco, l'attaccante del Pordenone, io lo seguo da quando giocava nel Bellaglio, lui lo sa, ed è nata tutta questa situazione. A ottobre quando il suo agente mi aveva detto se fosse interessato a Caglio, che si voleva misurare con la Serie B, è tutto. Per cui era una cosa che veniva da prima, io l'avevo già sentito. E poi Bruno Percovici, seguito pure lui, l'altro attaccante, Bruno poteva stare qui da molto tempo prima, però Lentella, giustamente come noi abbiamo aspettato a dare Sparacello, prima di prendere un altro attaccante, Lentella aspettava a darci lui prima di trovare il sostituto. Il sostituto l'avevano trovato, avevano trovato l'accordo, ma stava saltando perché il giocatore, dopo che c'erano tutte le firme, il presidente non voleva più andare per questioni sue, di spogliatoio, di compagni. Per cui c'è stato un momento, quando tutta Trapani sapeva che Percovici era un giocatore del Trapani, che nella nostra stanza ufficio d'albergo è venuto il panico, giusto Bruno? Per cui siamo dovuti andare nella stanza Lentella, perché noi avevamo mandato tutti i documenti e non ci tornavano indietro. Questa è la situazione. Io non parlo più, penso che poi per loro parla del curriculum. Sono Camigliano Agostino, difensore centrale, sono un piede mancino. Mi piace, come avevo già detto precedentemente, costruire il gioco anche dal basso, ma chiaramente la prima cosa è la concretezza. Sono venuto qui perché quando ho avuto la possibilità di venire a Trapani non ci ho pensato due volte, anche perché stavo cercando una sistemazione dove trovare più spazio e dove potermi esprimere meglio. Con l'Udinese, la squadra proprietaria del mio cartellino, abbiamo deciso di cominciare questa nuova esperienza. Questi sei mesi rimanenti alla fine della stagione poi vediamo come va. Sono Caio Decenco e sono un mancino pure io. Sono un appunto che cerca di lavorare per la squadra, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva ovviamente. Speriamo, speriamo. Niente, sì, col direttore sia da un paio di anni che proviamo a sposare questo progetto e adesso finalmente siamo riusciti a farlo. Spero di dare il mio contributo alla squadra e di lavorare il meglio possibile. Sono Bruno Petkovic, sono una punta che fa pure la seconda punta, non solo la prima. Sono un giocatore che si fida molto di sua tecnica, non solo di fisico. Come tutti che siamo arrivati qui, cerco di dare il mio contributo agli obiettivi di squadra e a Mistri. Vengo da un anno e mezzo dove personalmente non ho fatto quello che avrei voluto. Quindi vorrei cercare di dare tanto e dimostrare a me stesso e prima agli altri che posso ancora fare bene. Poi le motivazioni penso siano accompagnate a tutte quelle della squadra. Vedo una squadra che ha tantissimo entusiasmo e voglia di dimostrare quanto vale. Come la vedevo due anni fa quando ero qua, la caratteristica che ci contraddistingueva da tutte le altre squadre era quella di avere più fame e più entusiasmo degli altri. La rivedo ancora negli occhi di questa squadra e penso che l'abbiano dimostrato loro con i punti che hanno fatto fino a gennaio. In queste partite, al di là dei risultati, l'ultima vittoria lanciano l'abbia dimostrato. Io rivedo lo stesso entusiasmo, la stessa fame ed è quella che ci aveva fatto stupire il campionato di due anni fa e sta stupendo anche questo campionato, il Trapani, adesso.